Si concluderà domenica prossima la ventiduesima edizione di Antiquariato in Valle d'Itria che è stata inaugurata nella giornata del 12 di agosto. Infatti la capitale della Valle d'Itria torna ad essere la capitale appunto di Antiquariato, collezionismo, quadri, pitture vintage, catturando l'interesse di tanti appassionati in piazza Marconi. Antiquariato in Valle d'Itria è l'evento clou della settimana di ferragosto, uno dei più attesi a Martina Franca organizzato dall'associazione Arca Promoter di Martina con lo scopo di valorizzare le peculiarità legate alla tradizione storico-culturale e la promozione del turismo locale. E' bene ricordare che gli expo presenti sono quelli riguardanti gli Antiquariato, ossia i prodotti sino al 1850. Modernariato per quei prodotti che vanno dal 1850 e sino al 1970, collezionismo, vintage e artigianato. Siamo aperti nei giorni prefestivi e festivi dalle 10 alle 23, nei giorni feriali dalle 17 alle 23. Mostra mercato più grande del sud Italia con 50 espositori su 80 spazi espositivi.